Just Transition, qual è l'importanza di questo progetto? Questo progetto europeo è nato durante il Covid, poche settimane dopo che era stato presentato il programma europeo per la transizione verde e per il Green New Deal. In questi anni abbiamo accompagnato l'importanza di mantenere alta l'attenzione sindacale sui temi della giusta transizione e di costruirla dal basso, attraverso la contrattazione e le relazioni industriali, fornendo strumenti, conoscenze concrete ai sindacalisti in azienda e nei territori. Quindi l'importanza è il ruolo attivo del sindacato che accompagna le istituzioni, i lettori sociali, le imprese, perché la giusta transizione sia un percorso verso la sostenibilità che rispetti e promuova i diritti dei lavoratori e la costruzione di competenze verdi per accompagnare le persone nel futuro e sostenerle anche da un punto di vista economico, sociale, occupazionale e di coinvolgimento attivo.